Questa è la seconda edizione del Festival. La prima edizione è stata l'anno scorso. Mi riguardava i comuni di Valgioie, di Coazze ed era coinvolta anche la Sacra di San Michele. Quest'anno, nell'ambito del progetto Terre di Sacra, si sono aggiunti anche il comune di Avigliana e di Giaveno. Ci saranno dei concerti all'aperto, quello di Coazze in particolare sarà un concerto in quota come l'anno scorso, mentre a Valgioie e negli altri comuni saranno comunque concerti all'aperto in luoghi particolarmente suggestivi, o dal punto di vista naturalistico, per esempio quello di Coazze assolutamente splendido dal punto di vista naturalistico, oppure dal punto di vista urbanistico, per esempio quello di Avigliana sarà suonato nella piazza medievale della Cina. Ecco, ricordiamo le date di questo appuntamento. Tutto il programma si svolge nel mese di luglio e comincerà il 7 luglio con il primo concerto alla Sacra di San Michele, dove verrà suonato il Requiem di Mozart. Il programma seguirà il 12 luglio a Valgioie con una riduzione di Violetta, di un'opera. Il 14 luglio ci sarà appunto un concerto in quota a Coazze. Il 19 luglio ci saranno i Carmina Burana ad Avigliana e il programma termina il 21 luglio con la buona novella a Giornino.